Vediamo di approfondire anche le altre notizie del giorno, ci sono stati oggi nuovi sbarchi a Siracusa, nuovi dispersi, noi ci concentriamo adesso invece su un'altra isola protagonista degli sbarchi, dell'immigrazione, di tutti i problemi conseguenti, Lampedusa che è ufficialmente candidata al Nobel per la pace. Sull'isola sono comparsi murales realizzati da Amnes International, si sta realizzando anche la prima biblioteca per bambini, un'iniziativa appoggiata da cittadini privati e dalla Presidenza della Repubblica, oltre che dalle case editrici. Allora vediamo cosa succede sull'isola nel servizio del nostro inviato. Matteo Parlato. Lampedusa ha avuto la candidatura ufficiale per il Nobel della pace, lei in un tweet ha detto siamo molto contenti ma vorremmo atti concreti, che vuol dire? Perché se meritiamo il Nobel questo lo devono stabilire gli altri. Sicuramente noi abbiamo bisogno di tante cose, abbiamo bisogno di collegamenti marittimi seri ed efficienti, abbiamo bisogno che venga garantito l'effettivo diritto alla salute, allo studio, insomma di essere più vicini all'Italia, perché in questo momento siamo ancora le isole più lontane d'Italia. Lampedusa è stata ufficialmente candidata al Nobel per la pace, lei che ne pensa? È contento? Ma sì, penso che sia un'ottima candidatura visto il prodigarsi dei lampedusani verso l'accoglimento dei profughi o comunque delle persone bisognose negli arco degli anni. Ma il suo accento mi dice che lei non è lampedusano? No, sono di Monza, ho trapiantato a Lampedusa da 7 anni come residente e da 27 come turista. Acquisito? Sì, acquisitissimo. Per cui no, credo che sia una candidatura degna insieme a tante altre candidature, però penso che Lampedusa se lo meriti. Lampedusa è stata ufficialmente candidata per il Nobel della pace, lei da Lampedusana, che ne pensa? Solo con la venuta del Papa, perché questo discorso è stato messo poi da parte, solo con la venuta del Papa si è rinnovato questo discorso, ma siamo abbastanza arrabbiati. Perché siete arrabbiati? Perché ci hanno preso sempre in giro tutti, qua vengono, promettono. E secondo lei il Nobel non glielo danno? No, è sempre una presa in giro, non ci credo. Quando lo vedo ci credo. No, no, non ci credo. Sono sempre solo parole. Per Lampedusa ci sono solo parole mai fatte. A Lampedusa sono comparsi nuovi murales. Chi li ha fatti? Che storie hanno? Sì, li hanno fatti i volontari partecipanti a un campo internazionale sui diritti umani di Amnesty International. Sono ideati da Lorenzo Terranera, che è il disegnatore di Ballarò. Sono il regalo a Lampedusa, dai volontari di Amnesty, per raccontare il dramma che qui vive l'isola con i Viaggi della Speranza, ma anche il ruolo di Lampedusa come faro nel Mediterraneo. Questo edificio, alle mie spalle, ospiterà la Biblioteca di Lampedusa per Bambini e Ragazzi, un'iniziativa della IB Italia. Un'iniziativa che è partita tanto tempo fa, ma ora ha avuto un'importante accelerazione, un'accelerazione al di sopra delle stesse aspettative degli organizzatori. Sindaco, questi sono i libri appena arrivati. Salute e diritti dei cittadini, terra economia, note economiche, rivista del Monte dei Paschi di Siena. Libri sicuramente molto interessanti, ma voi avevate chiesto libri per bambini. A Lampedusa bisogna regolamentare l'immigrazione dei libri. Vogliamo soltanto libri dai 0 ai 12 anni, per lettori piccoli. Sì, è più utile e immediato offrire questo genere di libri perché la Biblioteca per Ragazzi ha già una sede, ha già un progetto, ha già un piccolo fondo dell'autorità per l'infanzia e per l'adolescenza e quindi è un progetto più concreto ed imminente. La Biblioteca per Ragazzi servirà ad aggregare bambini, avrà una sezione specializzata su libri senza parole perché servono per abbattere le barriere linguistiche, per parlare sia ai ragazzi di Lampedusa ma anche ai minori non accompagnati che arrivano coi barconi. Quindi libri per i bambini, libri nuovi e benvengono anche i libri per gli adulti perché comunque anche gli adulti possono leggere. Certo, perché dobbiamo avere un'altra più grande biblioteca per la quale però stiamo ancora cercando i locali. Avete raccolto l'appello per un libro per Lampedusa e ne avete portati pure più di uno, vedo. E anche delle fiabe, per cui siete stati bravi perché loro volevano in realtà libri per bambini. Io ci avevo quasi pensato a questo appello, forse è più importante appunto per i bambini stradarli appunto a... Ma fare leggere anche agli adulti non è poi così male, in fondo si legge anche poco. No, indubbiamente è una doverosa richiesta e è stato per noi un piacere effettivamente. Io prima di organizzare questo viaggio ci siamo informati, è stata veramente nostra precisa volontà di fare questo tipo di regalo perché è importante, è veramente fondamentale questo tipo di approccio anche in un'isola soprattutto dove c'è questa carenza. Grande successo, eh? Sì, l'isola del tesoro. Sì, l'isola del tesoro.